L'Aquila è al centro delle nostre attenzioni, vi ricordo che abbiamo svolto molti incontri in questi mesi da quel giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico presso il Miura, abbiamo anche detto che sarei tornato entro la fine dell'anno all'Aquila, personalmente, lo faccio in un momento particolare in cui celebriamo l'inaugurazione dell'anno accademico in una grande scuola di dottorato come il GSSI. L'Aquila è al centro delle nostre attenzioni, è quanto affermato questa mattina dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 del Gran Sasso Science Institute. Alla cerimonia introdotta dal rettore Eugenio Coccia hanno partecipato anche i premi Nobel, Barry Baris e Carlo Rubbia. La mattinata si è chiusa con l'Alexio Magistralis del professore Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. A rappresentare la Regione Abruzzo il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, tra gli invitati anche l'ex vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini, oggi consigliere regionale. Dopo la cerimonia dell'anno accademico, il ministro dell'istruzione ha visitato i laboratori nazionali del Gran Sasso, ricevuto dal presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli, dal direttore dei laboratori del Gran Sasso, Stefano Ragazzi, e dal presidente della Regione, Marco Marsilio. Fioramonti è stato accompagnato nelle strutture sotterranee, all'interno del massiccio del Gran Sasso, per visitare le tre grandi sale sperimentali e conoscerne le attività. Insieme al ministro, anche il neodesignato commissario per il Gran Sasso, l'ingegnere Corrado Gisonni, che ha ricordato come i laboratori rappresentino un unicum a livello europeo che vede coinvolti più sistemi contemporaneamente. Il ministro ha molto apprezzato l'eccellenza internazionale del centro di ricerca, che rappresenta un'importante risorsa per tutto il territorio nazionale. Quindi ricordare sempre che la ricerca è un grande sforzo, un grande cammino di curiosità, in questo percorso generiamo un sacco di impatti positivi che hanno a che fare con la vita di tutti noi. Oggi qua noi vediamo i risultati, una grande tradizione e una grande eccellenza.